In Piazza Santa Sofia a Benevento è stato inaugurato in canto di Natale la rassegna di eventi natalizi organizzata dal Comune di Benevento con il coordinamento di Renato Giordano. Il vero spirito natalizio nel cuore di Benevento con l'accensione delle luminarie di Corso Garibaldi e come da tradizione ha dato il via al programma di eventi, il coro delle voci bianche degli alunni delle scuole primarie di Benevento, l'Istituto Comprensivo Moscati, l'Istituto Comprensivo Sant'Angelo Assasso e l'Istituto Comprensivo Bosco Lucarelli con la direzione del Conservatorio di Musica Nicola Sala. Protagonisti i personaggi dei cartoni animati pronti ad augurare Buon Natale a grandi e piccini, poi l'apertura della Casa di Babbo Natale in Piazza Federico Torre. Tra gli eventi anche il primo appuntamento con note luminose in collaborazione con Enel Energia che ha proposto il concerto di Zampogni e anche le melodie che hanno colorato di emozioni Corso Garibaldi. Gli eventi di incanto di Natale con mercatini, luci, musica, teatro, danza ed il vero Babbo Natale si terranno fino al 6 gennaio 2024. Ascoltiamo le interviste realizzate da Alfredo Salzano per TV7, al sindaco di Benevento Clemente Mastella e alla console generale degli Stati Uniti, d'America a Napoli, Tracy Roberts Pounds. Inizia ufficialmente il Natale che in America è molto sentito. In America è molto sentito ma anche qui in Italia è molto sentito. Io ovviamente qui a Benevento ho sentito di più. Sono orgoglioso e anche onorato di stare qui all'invito del sindaco per avere questi bimbi che sono pieni di gioia. È stata una bella serata e grazie molto per l'invito. È un bel messaggio di pace che si lancia in questo momento di guerre globalizzate. È importantissimo che noi aliati Italia e gli Stati Uniti ancora lottiamo ogni giorno per pace e per un sviluppo in un mondo più bello ogni giorno. Dicevi un messaggio internazionale che parte da Benevento sul fronte anche della pace approfittando del Natale e di quelle che saranno le future generazioni, i bambini. Beh sì, credo bisogna operare per la pace in tutte e quante le condizioni, in tutti i territori e poi stasera c'è un tocco artistico con la presenza del console qua da noi, internazionale e bisogna pacificare. Credo gli Stati Uniti abbiamo fatto tanto, l'Italia anche e questo rapporto di amicizia eccetera, l'Italia e gli Stati Uniti deve essere conservato, conservato come Stato. Non dobbiamo mai dimenticare quello che hanno fatto loro per noi nei momenti passati, per l'immigrazione nostra di là. Insomma dopo il fascismo sta di loro incoraggiarci nella disciplina della democrazia. E stasera sono contento che per conto del governo americano sia la console amica nel nel nostro e nella nostra città. Con un'apposita ordinanza il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha disposto per la giornata del 2 dicembre la chiusura della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero comunale. L'atto è motivato dall'allerta della protezione civile per venti forti con locali e raffiche dalle 3 alle 21 del 2 dicembre. Il sindaco invita sempre la cittadinanza a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e in ogni caso a segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113 e 115. La giunta comunale, preseduta dal vice sindaco Francesco De Pierro in sostituzione del sindaco Clemente Mastella, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione funzionale, energetica e l'adeguamento sismico degli immobili ex-ossoline ed ex-malies. Si tratta, spiega l'assessore alle opere pubbliche Mario Pasquariello, nell'illustrare il provvedimento di uno dei progetti più qualificanti dell'amministrazione Mastella. Con l'approvazione odierna potremmo bandire l'appalto integrato, mettendo a gara contestualmente progettazione esecutive e lavori. Con quasi 16 milioni di euro del programma Pinqua, l'intera area di piazza commestibili sarà riqualificata. L'ex-malies diventerà polo d'eccellenza per esaltare le eccellenze enogastronomiche del territorio, mentre per il complesso ex-ossoline il progetto prevede agli ultimi due piani la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, con canoni accessibili per le fasce più vulnerabili, mentre il piano terra sarà dedicato al mondo accademico delle imprese e della ricerca, con spazi di co-working e contaminazione funzionale. L'amministrazione di Clemente Mastella sarà quella che farà risorgere a nuova vita l'area di piazza commestibili, così conclude l'assessore. Alle ore 12 del 1 dicembre si è chiuso il termine per la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Provinciale di Benevento per le elezioni del 21 dicembre 2023. Sono cinque le liste concorrenti, per essere Democratici, Vincenzo Capasso, Alfonso Cervo, Adele De Mercurio, Giuseppe De Nigris, Carlo Falato, Evelina Grifone, Michela Insogna, Cosimo Mazzone, Teresa Testa e Alfonso Topputo. Per noi di centro Carmine Agostinelli, Emanuela Barone, Carmine Bosco, Nicola De Vizio, Mara Franzese, Nascenzio Iannace, Francesco Antonio Iannella, Antonio Camillo Raffaele Laudanna, Matarazzo Palmieri, Maria Gaetano e Anna Maria Romano. Per noi campani Antonio Capuano, Giovanni Cavaiolo, Guido Costante, Stefano Diglio, Loredana Iannelli, Clemente Mazzaro, Umberto Panunzio, Deborah Sgro, Maria Rosaria Vetrone e Rosanna Zampelli. Per il centro-destra unito Fiorenza Cennicola, Andrea Cormano, Giuseppina De Blasio, Silvio Falato, Vincenzo Fuschini, Anna Iacchetta, Raffaella Iannotti, Pasquale Iarrusso, Gaetano Mauriello e Nicola Servodio. Infine per alternativa per il Sagno, Giuliano Gerardo Calabrese, Maria Giuseppina Cutillo, Concetta Detatitti Covino, Carlo Coduti, Filomena Di Mezza, Angelo Moretti, Adelina Luigia Panarese, Antonio Cervo, Raffaele De Longis e Giuseppe Antonio Roggero. Contre liste formate da sindaci e amministratori rappresentativi di tutti i comprensori della provincia, puntiamo a confermare e rafforzare la maggioranza al Consiglio Provinciale di Benevento. La leadership di Clemente Mastella si è confermata anche in quest'occasione riferimento saldo per molti amministratori e si è confermato uno schema di alleanze collaudato e vincente. In nome di una visione di Gasperiane e di apertura politica abbiamo garantito ai nostri alleati un leale e concreto supporto politico-elettorale perché l'importanza di una squadra e di un modello di governo vincente non sia subordinato all'aritmetica elettorale. Lo scrive il presidente di Noi di Centro e sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli, all'indomani della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Quanto al calendario elettorale e alla variazione operata dagli uffici provinciali, ricordiamo che il complesso meccanismo che sorregge la del Rio nasconde tecnicalità e insidie che possono indurre a qualche variazione di corsa, drammatizzare una semplice correzione tecnica che si è tradotta in una modifica cronologica, di poche ore, significa precipitare la politica nei meandri dei cavilli procedurali. Siamo sicuri e lo speriamo quantomeno che questa volontà è estranea a tutte le forze politiche. La sala congressi dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù, Fatemene Fratelli di Benevento, ha ospitato la presentazione ufficiale alle autorità politiche, locali e regionali, alla cittadinanza del programma di Oncology Network Center. Fanno parte della rete, strutture ospedaliere e centri ben radicati a livello territoriale, come i quattro ospedali della provincia religiosa di San Pietro e dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio dei Fatebene Fratelli, la Casa di Cura Villa Maria di Mirabelle Clano, il Centro Medico Delta, Tecnobios, Genus Biotech. Si tratta di un team multidisciplinare di professionisti sanitari, tra cui oncologi, radioterapisti, chirurghi oncologi, radiologi, biologi molecolari, nutrizionisti, patologi e infermieri specializzati. Alla presentazione ufficiale di Oncology Network Center sono intervenuti il padre superiore dell'ospedale Fatemene Fratelli di Benevento, fra Lorenzo Antonio Gamos, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il rettore dell'Unisagno Gerardo Canfora, il dottor Ugo Trama, responsabile dell'unità politica del farmaco e dispositivi presso la Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale e il dottor Piero Porcaro, vicepresidente di Confindustria Benevento con delega alla ricerca e innovazione. Il progetto è stato presentato dal dottor Antonio Febbraro, direttore scientifico del progetto. Ascoltiamo cosa dichiarato ai microfoni di TV7 nell'intervista realizzata da Alfredo Salzano. È un momento importante per questo territorio, lo dicevo anche prima i colleghi perché presentiamo alle autorità politiche locali e anche regionali questo nostro progetto, che è un progetto fondamentalmente di sviluppo e ricerca nell'ambito diciamo di più strutture che si occupano di sanità e di salute, un progetto di sviluppo e di ricerca secondo i canoni dettati anche dalle norme del governo clinico. Noi vogliamo con questo programma di sviluppo e di ricerca dare il nostro contributo al miglioramento della performance assistenziale nelle nostre zone che sono delle aree interne e indirettamente contribuire anche a ridurre nei limiti del possibile e con un piccolo contributo anche da parte nostra la migrazione sanitaria verso altre zone. Noi paghiamo molto il prezzo della nostra territorialità, ma io credo che essere interni possa anche rappresentare un momento di sviluppo e questa rappresenta secondo me un momento importante perché con un lavoro di squadra e di team mettendo insieme più persone, più professionalità e più tecnologie si riesce anche a migliorare la nostra performance assistenziale. Prima dell'estate abbiamo sentito la costituzione di questi... Siamo costituiti con un contratto di rete il 25 luglio, qua presso un notario di Benevento, abbiamo dei progetti di ricerca già avviati, qualcuno sta proprio per partire e quindi considerata anche la pausa estiva il bilancio è decisamente positivo. Speriamo di continuare lungo questa strada. Zaira Mainella ha prodotto il suo ultimo lavoro dal titolo L'acqua a memoria. Per l'occasione abbiamo ascoltato l'autrice. Il romanzo è stato pubblicato da Armando Editore e il titolo L'acqua a memoria è la frase che la protagonista Irene sente dire fin da piccola dal padre perché lui ritiene che l'acqua conserva tutto ciò che va a finire, quindi qualsiasi oggetto in un lago, nel mare e poi anche a distanza di anni lo riporta a galla, quindi legati a questi oggetti poi i ricordi e le storie ad essi collegate. Bene, quindi diciamo che questo che hai detto desta non solo curiosità ma soprattutto interesse da parte di coloro i quali amano leggere e vogliamo dare l'appuntamento ai lettori e coloro i quali amano la lettura dove presenterai questo libro, la location e quando e dove la presenterai? Allora l'appuntamento è domenica 3 dicembre alle 17 alla libreria Barbarossa, sarà presentato dalla giornalista Elide Apice con letture di Alessandra Verruzio. Suppongo che questo libro abbia anche un costo ma non lo diciamo questo, però possiamo dire dove uno vuole reperirlo? Sì certamente, in libreria o anche online? In tutte le librerie o particolarmente alla libreria Barbarossa? Alla libreria Barbarossa ci sono già delle copie e nelle altre si possono ordinare. È la nuova Opel Corsa elettrica. Ha una grande autonomia? È divertente da guidare. Spinge forte. Si ricarica il volo? Davvero? Vieni a conoscere la nuova Opel Corsa. Concessionaria Sara, zona industriale, Benevento. Per lo sviluppo di Benevento e del Sagno è una giornata estremamente positiva. Dopo mesi di costante interlocuzioni, assiduo impegno, il commissario di governo ZES, Giosi Romano, ha firmato l'autorizzazione unica per l'insediamento solite capponte Valentino. Così la presidente dell'ASI di Benevento, Luigi Barone, con questo provvedimento l'azienda potrà avviare lavori, potrà aprire un importante cantiere per il territorio. 50 milioni di euro di investimenti, oltre 300 assunti al regime. Ringrazio l'azienda con tutto il management lituano e i dirigenti italiani per aver scelto Benevento, le istituzioni locali, regionali e nazionali per averci accompagnato nel processo di attrazione dell'investimento con l'approvazione del contratto di sviluppo, il commissario Romano per aver apposto la firma all'autorizzazione che completa l'iter burocratico. È stato presentato in prefettura il corso di alta formazione sulla violenza domestica di genere contro le vittime vulnerabili, organizzato dalla Procura della Repubblica di Benevento e dalla prefettura, unitamente agli enti di istituzioni che partecipano al tavolo tecnico interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere nel territorio provinciale. L'iniziativa articolata in otto incontri itineranti avrà avvio il 4 dicembre con i primi due incontri presso la prefettura e si concluderà nel mese di giugno 2024. La programmazione delle citate attività si inserisce nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto tra i vari attori istituzionali per la realizzazione di un sistema integrato di azioni operative dirette a rafforzare la tutela delle donne, dei minori e delle altre vittime vulnerabili. TV7 ha incontrato il procuratore della Repubblica Aldo Policastro e il prefetto di Benevento Carlo Torlontano. Il messaggio è quello che è venuto fuori dal tavolo interistituzionale che poi ha dato vita a questo corso di alta formazione. Era un'iniziativa che era stata già messa a punto un paio di mesi fa e ora è quanto mai attuale alla luce degli ultimi avvenimenti. Un'iniziativa che è nata dall'esigenza di una formazione comune e quindi di dare una risposta uniforme da parte di tutti gli attori del tavolo a questo fenomeno come approccio al fenomeno stesso. Per evitare alcuni fenomeni come anche quello della vittimizzazione secondaria. Per noi è importantissimo perché diamo il segnale della continuità dell'impegno su questo tema che non può lasciarsi nelle parentesi delle celebrazioni ma è un impegno quotidiano, un impegno anche molto gravoso ma che dobbiamo affrontare in termini di formazione una formazione che non sia soltanto specialistica del settore ma che si allarga agli aspetti giudiziari ma anche agli aspetti sociali, aspetti psicologici, aspetti di linguaggio perché il tema fondamentale è formarsi meglio per agire meglio ma avendo competenze molto ampie e non soltanto specialistiche del settore giudiziario. Il corso consiste in otto moduli, cioè vuol dire otto lezioni. In ogni elezione ci sono tre o quattro relatori le elezioni e i corsi moduli svariano dagli esteroidimi di genere all'intervento sanitario, al giudiziario, civile e penale abbraccio tutto il mondo della rete di contrasto alla violenza di genere. Ma io all'appello alle donne di vittime di giudizio lo faccio sempre che è quello di denunciare quando ci sono questi segnali Io l'appello lo faccio anche agli uomini che è giunto il momento di dire basta, è giunto il momento di smetterla, è giunto il momento di tutti quanti fare uno sforzo. Io dico quando dico tutti quanti vuol dire che anche noi siamo intrisi di stereotipi di genere e di pregiudizi. Tutti quanti è necessario che diciamo basta a questi stereotipi di genere e ai pregiudizi. Presso il Tribunale di Benevento la terza sezione penale presieduta dal giudice Sergio Pezza con Perrotta e Murgo accogliendo le richieste dell'avvocato Vittorio Fucci assolto il sindaco di San Giorgio Lamolara e consigliere provinciale di Benevento Nicola De Vizio al responsabile dell'ufficio tecnico del comune Luigi Castiello entrambi sono stati assolti per non aver commesso il fatto nel mirino degli inquirenti sono finiti i fatti che vanno dal febbraio del 2014 al settembre del 2017 le accuse erano a vario titolo di abuso d'ufficio omissione in atti di ufficio, falso ideologico e omissione di lavori a carico dei diversi imputati nel processo il PM aveva chiesto la condanna a nove mesi di reclusione per entrambi gli imputati la parte civile rappresentata dall'avvocato Crisci aveva chiesto la condanna a nove mesi di reclusione la condanna al risarcimento dei danni oltre che alle spese legali il collegio invece accogliendo la tesi dell'avvocato Vittorio Fucci assolto il sindaco di San Giorgio Lamolara e il consigliere provinciale di Benevento Nicola De Vizio e il responsabile dell'ufficio tecnico Luigi Castiello per non aver commesso il fatto hanno cercato di distruggerlo ma non ci sono riusciti tutta la mia solidarietà va all'amico e medico Carmine Antropoli l'ex sindaco di Capua assolto anche in appello dall'accusa di concorso esterno in associazione camorristica così il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano dopo le dichiarazioni rilasciate da Antropoli dirigente medico dell'ospedale Cardarelli di Napoli i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Napoli Presidente Melito hanno rigettato il ricorso con cui la DDA partenopea aveva impugnato il verdetto di assoluzione pronunciato in primo grado nei confronti di Antropoli dalla Corte d'Assise di Santa Maria Capoavetere la verità vince sempre su tutto e noi di Forza Italia non abbiamo mai avuto dubbi sulla moralità e professionalità di Antropoli bisogna avere fiducia nella magistratura continuiamo a credere che esista una giustizia giusta al dottor Antropoli i giudici hanno restituito la tranquillità come da tradizione lunedì 4 dicembre il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento festeggerà Santa Barbara la patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la cerimonia si svolgerà nella sede centrale di Benevento in un clima di semplicità e sobrietà e prevederà il programma che partirà alle ore 10 con l'apertura sedia accoglienza delle autorità e degli invitati alle 10.15 la celebrazione della Santa Messa ufficiata da Monsignor Felicia Crocca alle 11.15 il saluto ai presenti e la consegna delle benemerenze i carabinieri di Castelfranco e Miscano coadiuvati dai colleghi della stazione di Monte Falcone di Valfortore coordinati dalla compagnia di San Bartolomé in Galdo hanno denunciato e stato di libertà un cinquantenne della provincia di Foggia già noto alle forze dell'ordine per indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti le indagini hanno preso spunto dalla denuncia di una donna che nell'ottobre scorso aveva smarrito il proprio portafoglio in un vicino comune pugliese con all'interno la sua carta di credito da cui qualche giorno dopo erano stati prelevati 600 euro i militari hanno immediatamente avviato gli accertamenti bancari riuscendo a risalire all'ATM dell'ufficio postale di Castelfranco e Miscano presso cui era stato prelevato il denaro e proprio grazie ai video ripresi dalla telecamera dello sportello automatico hanno identificato rintracciato e deferito all'autorità giudiziaria l'uomo recuperando anche la carta di credito la guardia di finanza del comando provinciale di Benevento nell'ambito dei servizi di controllo riguardanti traffici e commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri ha sottoposto a sequestro 24.000 prodotti privi delle necessarie informazioni previste dal codice del consumo i militari della tenenza di Solopaca hanno sottoposto a controllo un esercizio commerciale ad ugenta dove hanno accertato che erano pronti per essere commercializzati 24.000 addobbi natalizi i prodotti non erano marchiati per la comunità europea il responsabile dell'attività commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio per le violazioni del decreto legislativo e gli è stata erogata la sanzione amministrativa di 4.032 euro la merce è stata sottoposta a sequestro data l'escalation di eventi che ultimamente stanno caratterizzando la casa circondariale di Benevento il segretario generale del SINAP Roberto Santini annuncia l'incontro con il sindaco della città di Benevento il prossimo 5 dicembre alle 11.30 insieme al coordinatore nazionale SINAP e Fernando Mastrocinque incontreremo l'onorevole Mastella presso Palazzo Mosti annuncia il segretario generale alle 12 terremo una conferenza stampa con i giornalisti nella sala consigliare il segretario generale il coordinatore nazionale con una delegazione del SINAP nella stessa mattinata faranno ingresso presso l'istituto beneventano per effettuare una visita sui luoghi di lavoro al fine di accertare le condizioni logistiche del penitenziario si è svolta presso il tribunale di Benevento la mostra dei lavori delle scuole del territorio che hanno partecipato al contesto lo sguardo di chi ha visto indetto dal comitato pari opportunità degli avvocati di Benevento l'iniziativa si pone in continuità con il lavoro avviato lo scorso anno nell'ambito del progetto invisibilia finalizzato a tenere alta l'attenzione sul fenomeno della violenza contro le donne ad accendere una luce sospetti ancora in ombra e poco esplorati Alex tu hai già deciso cosa regalare per Natale? sono ancora un po' indeciso ciao ragazzi ciao Sara di che parlate? dei regali di Natale tu quest'anno cosa regalerai ai nonni chizi? i pantofoli e bagno e sfumo dopo barba? no ma sono cose troppo banali io regalerò la serenità cioè? dei voucher dell'ASDIM che sono dei buoni per delle visite specialistiche quindi anche noi regaleremo serenità ottima idea da primi anni in via Cassella a Benevento Babbo Natale e l'elfo aspettano bambini e genitori per regalare tanta gioia sabato 2 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 primi anni un Natale in armonia tutto da vivere buon Natale a tutti a presto ho 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 a presto a presto L'inchiesta sul calcio scommesse si allarga e sbarcha in campagna, interessando tre ex calciatori del Benevento e uno attualmente in forza al club di Via Santa Colomba. Intorno alle 7.20 i militari della Guardia di Finanza hanno bussato a casa del difensore giallorosso Cristian Pastina, effettuando una perquisizione e sequestrando i dispositivi digitali. Pastina sarebbe coinvolto nell'inchiesta insieme a Massimo Coda della Cremonese Francesco Forte del Cosenza e a Gaetano Letizia della Feralpi Salò, quest'ultimo ancora di proprietà del Benevento. Il provvedimento è scattato per violazione dell'articolo 4 della legge 401, quello cioè che impedisce a uno sportivo di scommettere sulla disciplina che pratica, in questo caso ai calciatori di puntare sul calcio. Nelle indagini risultano coinvolte altre due persone che non sarebbero calciatori. Pastina, che si è regolarmente allenato con i compagni, avrebbe negato ogni coinvolgimento e dichiarato ai militari che il conto gioco a lui riferibile era nella disponibilità dell'ex compagno Letizia. Bocche cucite in casa a Benevento, ma la dirigenza è delusi amareggiata per quanto accaduto. Il club giallorosso starebbe seguendo il corso degli eventi da diretto interessato, cercando di capire come muoversi per tutelare la propria onorabilità. Nessuno della società era a conoscenza del fatto che i propri calciatori effettuavano puntate su siti di scommesse sportive. Tra l'altro i fatti risalgono allo scorso anno, quando il Benevento è arrivato ultimo nel torneo di IB ed è retrocesso in Serie C. Il Benevento Calcio, in persona delle galle rappresentanti, avvocato Oreste Vigorito, ha comunicato che ha provveduto ad informare la procura federale della FIGC su quanto pubblicato dal quotidiano il mattino, edizione di Benevento, circa le indagini in corso da parte della Procura della Repubblica, relativi ad episodi di scommesse che coinvolgono i propri tesserati. Cristian Pastina, attualmente calciatore del Benevento Calcio, e Gaetano Letizia, attualmente in prestito alla società Feralpi Salò, ed ex tesserati quali Francesco Forte e Massimo Coda, il tutto nel rispetto della vigente normativa federale. Dopo giorni di attesa, finalmente è scattata la prevendita per il derby tra Juve Stabia e Benevento. La sfida del Menti di Castellammare di Stabia in programma domenica alle 16 è valida per la sedicesima giornata del Girone C del campionato di Serie C 2023-2024. Il GOS ha sancito alcune limitazioni per i supporter della strega. Saranno 350 ai posti disponibili nel settore ospiti, e per i tifosi giallorossi sarà obbligatorio il possesso della Fidelity Card. Il costo dei tagliandi è di 10 euro, ai quali vanno aggiunti 2 euro per i diritti di prevendita e i costi di commissione. Sport 7 Live prosegue a Gonfievile, il tour iniziato nel 2019 con la nona tappa esterna. Set del fortunato format del gruppo di comunicazione di TV7, Radio International e Social, gli accoglienti saloni della concessionaria Sara 3, gruppo Fiat, Abarth e Lancia della famiglia Ricciardi, che tanto hanno portato fortuna negli scorsi anni e giallorossi dal punto di vista dei risultati con dirette prestigiose ed ascolti record. Domenica 3 dicembre, a partire dalle 15.30, TV7 seguirà la partitissima Juve Stabia-Benevento, valida per la sedicesima giornata d'andata del campionato di Serie C Girone C, in programma Romeo Menti di Castellammare di Stabia, con la conduzione del giornalista Alfredo Salzano ed il commento di opinionisti, giornalisti ed esperti di calcio. La redazione giornalistica attiverà i consueti canali di comunicazione per dare la possibilità ai telespettatori e agli internati di essere tra i protagonisti della puntata di Sport 7 Live con messaggi, video e commenti dedicati al match Juve Stabia-Benevento e al torneo di Serie C Girone C. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.